L'ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, ha stabilito ancora alcuni anni fa che il Casinò di Venezia è una delle peggiori municipalizzate d'Italia. In realtà la situazione non è proprio questa, perché il Casinò di Venezia è stato affossato dalla pessima gestione amministrativa del centro-sinistra, il quale ha cercato di fare di tutto per venderlo e quindi avevamo una gallina dalle uova d'oro che è stata strozzata, cioè sono stati prelevati molti più soldi rispetto a quelli che il Casinò riusciva a generare. Noi non vogliamo cederlo ai privati, ma vogliamo invece rilanciare tutta l'azienda e quindi creare maggior ricchezza per i cittadini attraverso una nuova sede sul fronte acqueo, quindi raggiungibile dalla laguna e da terra e che venga questa nuova sede realizzata da un socio privato, un socio del settore alberghiero, così facendo anche rilanciare con nuovi giochi un nuovo management che vogliamo andare a cercare a Macau o a Las Vegas e quindi che sappia di che cosa stiamo parlando, vogliamo tagliare le consulenze esterne e fare maggior formazione al personale. Tutto questo può essere fatto ed è per questo che vi chiediamo il voto. Votate Movimento 5 Stelle, votate il sottoscritto come candidato sindaco, votate finalmente per l'onestà.